strappa orologio dal polso e scappa furto da 30 mila euro in centro città attivo il nuovo punto vaccinale a valle foglia somministrazioni ogni mercoledì torna il grande cinema a pesaro con il multiplex giometti la visauro nuoto vola alle olimpiadi simone sabbione in partenza per tokyo eccoci pronti per il nostro telegiornale buona serata oggi è mercoledì 7 luglio e questo il nostro appuntamento con l'informazione su rossini tv in apertura questa sera parli partiamo con la cronaca perché è stato un colpo da svariate migliaia di euro quello messo a segno nella tarda mattinata di ieri nella zona di via mazzolari in pieno centro storico di pesaro un noto medico del pesarese mentre era di ritorno nella propria abitazione a bordo della sua automobile è stato raggiunto da un malvivente alla guida di uno scooter che anche grazie ai finestrini abbassati della vettura è riuscito ad introdursi nell'abitacolo del conducente per strappare dal polso della vittima il prezioso orologio che indossava dal valore di circa 30 mila euro una rapina messa a segno in pochissimi istanti che lascia a presagire però che il ladro coperto da un casco integrale avesse iniziato a seguire la vittima prima del momento del furto sul caso stanno ora indagando i carabinieri per risalire l'identità del malfattore dopo che nell'ultimo fine settimana come vi abbiamo raccontato nelle scorse edizioni del nostro telegiornale erano stati diversi tentativi di truffa e di furto di orologi anche in altri quartieri della città parliamo ora di sanità e di aggiornamenti legati alle vaccinazioni anti covid 19 perché è entrato in funzione questo pomeriggio il nuovo punto di somministrazioni a valle foglia e più precisamente presso la casa della salute di montecchio vediamo quindi il servizio oggi apriamo questo ulteriore punto vaccinale di prossimità qui è presso la casa della salute di montecchio di valle foglia è un è molto importante perché oltretutto è un punto vaccinale prevalentemente pediatrico ed è il primo di tutta la regione che viene aperto e questo perché abbiamo scelto questa città insomma questa zona perché in realtà ha il tasso di giovani più alto rispetto a tutti i miei comuni del distretto di pesaro quindi è stata scelta per questo è stata scelta la casa della salute di montecchio perché deve essere luogo di integrazione fra il comune fra noi fra l'asur e fra la popolazione comunque è un luogo riconosciuto dalla popolazione facilmente raggiungibile sono stati istituiti due ambulatori che lavoreranno praticamente in simultanea grazie al ai medici ai pediatri di libera scelta che hanno deciso di venire dentro praticamente la casa della salute e darci questo ulteriore aiuto rispetto alla vaccinazione in particolare per l'età pediatrica e comunque giovani adulti questa è una battaglia che abbiamo iniziato già a febbraio chiedendo un punto vaccinazione qua a Vallefoglia dopo diversi sopralluoghi avevamo anche avuto il consenso da parte di asur e regione ma non è stato possibile aprire prima anche perché servivano medici disponibili a prendersi la responsabilità ed oggi finalmente ogni mercoledì pomeriggio avremo un presidio anche qui alla casa della salute per questo devo ringraziare la dottoressa mirca marangoni pediatra che insieme ai colleghi si è presa la responsabilità di gestire questo centro che non sarà solo a disposizione delle vaccinazioni per bambini dai 12 anni in su lo voglio sottolineare ci sono tre modi per potersi prenotare o attraverso proprio l'agenda degli stessi pediatri o attraverso la piattaforma di poste italiane quindi quella ufficiale in cui saranno messi a disposizione 30 posti ogni mercoledì pomeriggio oppure con l'accesso diretto perché se dovessero avanzare delle dosi è possibile venire qui alla casa della salute di Vallefoglia e mettersi in coda un risultato fondamentale per cui ringrazio ancora asur e tutti i medici perché non possiamo illuderci che l'emergenza covid sia del tutto terminata e in vista della prossima stagione autunnale invernale sarà importante ancora favorire la copertura totale con la vaccinazione oggi veramente una bellissima giornata essere riusciti ad attivare anche il centro vaccini qui a Vallefoglia è sicuramente un ottimo risultato sono molti mesi che stiamo ripetendo il fatto che era importante riuscire ad aumentare il numero dei punti vaccini che avrebbero sicuramente avuto un effetto positivo anche per stimolare e incentivare le persone a vaccinarsi e essere riusciti ad aprirlo proprio in estate questo che è un periodo sicuramente molto critico dove i dati ci dicono che le persone poi stanno diminuendo cioè le persone che sono disponibili a fare il vaccino è stato un veramente un segnale importante chiudiamo questa pagina di ambito sanitario con gli aggiornamenti dei nuovi casi da covid-19 riscontrati a livello locale e anche regionale nelle ultime 24 ore infatti sono stati testati 2.666 tamponi, 1.132 nel percorso nuove diagnosi e 1.534 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati del 4,6 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 52 con 10 casi segnalati nella provincia di pesaro urbino nessun decesso è stato notificato nelle ultime 24 ore ed ora cambiamo completamente argomento perché il grande cinema è pronto a tornare a pesaro riapriranno da questa sera infatti le sale del multiplex giometti presenti alla conferenza stampa di questa mattina il vice sindaco Daniele Vimini, i consiglieri regionali Andrea Biancani, Micaela Vitri e Nicola Baiocchi e Giovanni Giometti che è il titolare di Giometti Group con i suoi tre figli. Vediamo allora tutto il servizio. Riapre ufficialmente il multiplex di Pesaro dopo quella dei giorni scorsi di Ancona c'è stata appunto l'inaugurazione anche lì questa rappresenta non solo il ritorno ad una normalità perduta ma una ripartenza nel segno della speranza e la dimostrazione che il cinema è più vivo che mai. Ci troviamo con Massimiliano Giometti e appunto abbiamo detto dopo diversi anni di gestione UC Cinema finalmente ritorna in città, ritorna in città Massimiliano. Innanzitutto come ti senti? Beh mi sento emozionato, ho detto bene, ritorniamo a casa perché noi siamo a Pesaro ormai dal 1988 con il cinema Odeon, con il cinema Metropolis, il moderno, insomma ne abbiamo vissute di anni a Pesaro e ritornare qui, dico a casa perché questo qui l'abbiamo costruito noi e abbiamo aperto nel 2008 ricordo bene il giorno perché due giorni prima è nato mio figlio piccolino quindi l'ho chiamato ho avuto due figli nello stesso giorno, uno era al cinema e uno era al bambino quindi è un'emozione grandissima, un'emozione di poter aprire il cinema, rivedere la gente in sala insomma perché questo ci è mancato molto per un anno e mezzo e quindi è stato un periodo difficile però è un periodo dove non ci siamo abbattuti ma abbiamo cercato anzi di cercare di trovare delle contromisure insomma per fare in modo che la gente torni in tranquillità, in sicurezza al cinema e a vedere dei film insieme ad altra gente. Tra l'altro ci troviamo in questa sala 1 che è stata completamente rivoluzionata arricchita ancor di più e ancor più predisposta per la comodità dei clienti? Sì, questo è il nuovo progetto Giometti Cinema, questo si chiama G Plus, la sala G Plus in ogni multisala che apriremo partiremo con una sala di questo tipo, le sedie come avete potuto vedere sono già distanziate una dall'altra tramite questo tavolino centrale, ogni poltrona è reclinabile, ogni poltrona ha il doppio bracciolo così non si litiga con quello che arriva prima, ognuno ne ha due singoli, insomma pensiamo che il comfort sia quello che una persona cerca quando esce di casa e quindi oltre all'aspetto tecnico che per noi è molto importante essere adeguati a quello che sono le ultime novità audio e video, anche il comfort sia necessario e indispensabile. Quindi ritornate, facciamo un appello al cinema in queste sale ancora più belle e più comode, a proposito di cinema, a proposito di film, quali sono i film che la gente potrà venire a vedere qui da Giometti? Ecco insomma partiremo proprio stasera con un film nuovissimo con Black Widow, una novità assoluta e poi dopo agosto c'è una delle altre sorprese, adesso non lo svelo tutt'oggi però ci saranno parecchi film anche se è un periodo estivo e comunque se posso premettere una battuta qui c'è l'aria condizionata e quindi quando è fuori molto caldo quasi sta bene. CNA Cinema e Audiovisivo Marche, anche questa associazione è contentissima della riapertura delle sale cinematografiche in generale ma in particolare anche questa di Pesaro, ci troviamo con Claudio Salvi e allora insomma una giornata di festa quella di oggi. Una giornata di festa all'insegna della rinascita, della ripartenza ed era questo un settore che ha sofferto più di tanti altri, i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, i cinema, i teatri e quindi è un motivo di festa e di orgoglio anche per la CNA che rappresenta ovviamente il gruppo Giometti associato a CNA Cinema Marche ma come lui tanti altri esercenti che sono tornati finalmente a lavorare. E quindi quali sono le tue speranze, insomma le speranze di CNA a supporto proprio di questa categoria? Allora a supporto di questa categoria stiamo facendo tanto anche a livello nazionale per poter vedere di trovare un accordo anche sui protocolli di sicurezza che sono importanti ovviamente in questa fase di ripartenza ma noi facciamo molto altro anche per le imprese di produzione delle marche che sono tornate finalmente a produrre documentari, film, sono ripartiti molti set in questa regione e quindi questo è un segnale, un bel segnale di speranza per tutto questo settore. In occasione di questa giornata di apertura, di riapertura di questo cinema abbiamo un attore pesarese Massimo Fratelloni che ci stava anticipando appunto che sarà tra coloro che faranno parte del cast di un film che vedremo proprio qui da Giometti il prossimo inverno. In qualità di attore pesarese volevo dire innanzitutto che a mio avviso il vero imprenditore in merito alla riapertura di CNA è colui che è pronto in ogni momento a preservare l'immagine della propria azienda e quindi anche investendo risorse anche in momenti più difficili e quindi insomma un grande coraggio da parte di Giometti CNA nella riapertura, nel nuovo allestimento delle sedute, del potrone, con le distanze, con tutto ciò che è previsto dalle normative. Per quanto riguarda me come attore, chiaramente la riapertura mi fa molto piacere poiché ci sono dei film tra i quali in particolare Vecchie Canaglie che è un film comico con un cast di eccezione poiché troviamo Lino Banfi, Andrea Roncato, Greg e Pippo Santonastasio che è un comico dei film degli anni Ottanta con Adriano Celentano. Quindi questo film uscirà in inverno e aspettiamo con grande felicità di poterlo presentare nelle multisale di Giometti Cinema. E qui Massimo che ruolo hai fatto? Allora io sono un agente, assistente del commissario che praticamente indaga su dei fatti che accadono in un ospizio in cui la titolare vuole praticamente sbarzarsi di tutti i vecchietti poiché intende vendere tutta la struttura a cifre interessanti. E quindi accade che nell'ambito delle varie situazioni il rappresentante dei vecchietti che è Lino Banfi, ingaggia il figlio che è un uomo d'affari e cercano di rimediare la cifra per comprare loro la struttura. E poi si innescono dei meccanismi con delle bande, con delle situazioni abbastanza curiose e comiche. E Lino Banfi com'è? Allora Lino Banfi di persona è una persona molto gentile, molto anche umile direi. e ancora si ricorda veramente tutte le battute in memoria, meglio anche di attori giovani. Quindi è stato un onore conoscerlo, come anche Pippo a Sant'Anastasio perché poi comunque l'epoca è la stessa come attori comici. E quindi è stato per me un grande onore e un piacere fare parte di questo cast. E ringrazio la produzione, la regia e tutti quanti. Si è svolta ieri una nuova riunione del direttivo APA Hotels, l'Associazione degli Albergatori Pesaresi. Diversi temi di confronto, anche se il principale rimane quello della Movida e delle criticità riscontrate nella zona mare. Per cui i gestori e titolari di strutture ricettive chiedono quindi soluzioni immediate. Vediamo. Non si è discusso solo di Movida nella riunione del direttivo dell'Associazione degli Albergatori Pesaresi che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri. Oltre all'andamento del flusso turistico sul territorio, che quasi a metà stagione vede ancora alcuni hotel al di sotto del 50% della capacità ricettiva, in particolare per le strutture di Levante, sul tavolo c'erano anche i temi relativi ai parcheggi per turisti nell'area del Santa Marta e la ricerca di soluzioni per sopperire l'assenza della guardia medica. Ieri abbiamo ufficializzato l'accordo fatto con Pesaro Parcheggi, con l'istituto alberghiero, in cui ci saranno un top di posti riservati e gestiti direttamente dall'Associazione degli Albergatori per gli alberghi di Levante. Sono 60 posti in auto. Stiamo predisponendo la segnaletica e i coupon per dargli agli alberghi per poterli utilizzare. Speriamo di mettere il tutto in funzione da questo fine settimana, massimo i primi giorni della prossima. Per quello che riguarda la guardia medica, purtroppo, pur avendo scritto la Regione, pur avendo scritto alla ASLE, non è possibile istituire quest'anno il servizio di guardia medica di urna turistica in quanto non c'è disponibilità dei medici. Quindi tramite l'ordine dei medici abbiamo fatto la convenzione con un medico che fa la vista domiciliare presso gli alberghi durante il giorno e stiamo per raggiungere un accordo con i poliambulatori che ci sono in Fratelli Rosselli vicino alla farmacia Mari. Sul fronte Movida, gli albergatori sono tornati ad evidenziare le maggiori criticità riscontrate nella zona mare. Situazioni che verranno nuovamente discusse in un incontro in programma la prossima settimana con l'amministrazione comunale. Noi ovviamente chiediamo un giusto equilibrio tra le attività turistiche e le attività praticamente di Movida perché non possiamo parlare nemmeno di musica perché comunque la musica finisce a mezzanotte e comunque la Movida continua ad andare avanti. Quindi forse c'è un problema di orario dei pubblici esercizi perché in teoria possono stare aperti tutta la notte. Quindi chiederemo ancora all'amministrazione di fare una lunga riflessione e per questo sicuramente la prossima settimana avremo un incontro sulla vocazione turistica e sulla destinazione della città. Non vogliamo fare la battaglia agli astori dei locali però gli astori dei locali devono capire che la Movida non può stare in mezzo agli alberghi. I punti critici sono quattro ma sostanzialmente i più critici sono tre e sono la zona di Via Nazare e Sauro davanti a due locali poi abbiamo l'intersezione di Via Le Fiume con Via Le Trieste e i locali che costeggiano il muro di Villa Marina e poi ovviamente c'è un problema anche in Via Mendola che però è di entità minore. Vorremmo che il sindaco proprio per evitare le polemiche riflettesse a lungo su quello che sta capitando in Via Le Trieste sicuramente uno dei problemi, questo lo devo dire perché hanno riscontrato anche le forze dell'ordine che porta a questi assembramenti sono la creazione dell'isola pedonale dove per dire la semplice navetta che passava, il semplice bus, già rompeva l'assembramento. La provincia di Pesaro Urbino, la ONUS, piattaforma solidale di Pesaro tre ordini professionali e provinciali l'ordine degli architetti, degli ingegneri e dei geometri e cinque scuole superiori hanno firmato questa mattina un protocollo di intesa per attuare interventi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche Risultato raggiunto grazie anche alle segnalazioni rese note da Massimo Domenicucci sulle tante difficoltà quotidiane che anziani o persone con disabilità incontrano nell'arco della giornata C'è tempo fino al 26 luglio per presentare la domanda di concessione del bar di Via Cavour 7 Domani infatti sul sito del Comune sarà pubblicato l'avviso tramite il quale l'amministrazione comunale chiama a raccolta tutti gli interessati a gestire gli spazi in uso alla Fondazione Pescheria La durata della concessione sarà di tre anni prologabili per ulteriori tre Le domande potranno essere presentate da lunedì 12 tramite PEC a comune.pesarocchiocciolaemarche.it o tramite raccomandata l'indirizzo Comune di Pesaro Piazza del Popolo 1 61 121 Pesaro È stato presentato questa mattina al Parc Santa Lucia il servizio Urbino Link la soluzione di viaggio treno più bus di Trenitalia e Adria Bus per raggiungere la città Ducale Da Urbino è possibile utilizzare uno dei 93 treni programmati da Trenitalia con transito a Pesaro in coincidenza con i 56 collegamenti da e per Urbino disponibili ogni 30 minuti dalle 6.25 alle 20.30 per usufruire del servizio è sufficiente un unico biglietto acquistabile tramite tutti i canali di Trenitalia RA Sport e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sono liete di ufficializzare il prolungamento del contratto di partnership tecnica che anche in precedenza legava le due realtà il rinnovo raggiunto grazie alla collaborazione di Prodi Sport vedrà così nuovamente il rea in veste di sponsor tecnico della prestigiosa società marchigiana fino al 2026 e parliamo ancora di sport sta per partire in direzione Olimpiadi Simone Sabbioni nuotatore che a Tokyo rappresenterà Pesaro e la Vissauro Nuoto storica società e squadra di nuoto della città abbiamo intervistato quindi Simone insieme alla presidente della Vissauro Luisa Patrignani nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in comune io inizio il 25 luglio con il centro d'orso il pomeriggio perché le batterie saranno invertite e saranno circa mezzogiorno italiane e niente ambirò a passare a una semifinale e in eventuale finale di più non dico niente perché chiaramente sarà a livello altissimo sia a livello europeo che fuori Europa quindi sarà molto tosta io ce la metterò tutta e so che ho tanto tifo dalla mia parte quindi questo mi riempie e mi dà l'adrenalina giusta da settembre che ormai sono tesserato a Vissauro Nuoto è un appoggio grosso, solido che mi dà tanto aiuto e soprattutto anche nella parte pandemica è stata una parte fondamentale questa interazione tra noi e Pesaro e quindi se riuscite a dare una continuità nella preparazione è ottima che secondo me darà i suoi frutti speriamo che riesca a dare il meglio di me e Pesaro mi è stato vicino tanto quindi le devo tanto Progetto e collaborazione che proseguirà anche dopo Tokyo in ottica 2024 e non solo Sì esatto, 2024 ci arriveremo a Parigi e speriamo di beccare la terza Olimpiade lì e adesso ci concentriamo tanto sulla seconda ma l'occhio anche lì sulla terza e io ho questa opportunità che mi si è presentata l'anno scorso e per me è soltanto che è un piacere quindi nasce questa strada fino al 2024 e poi si vedrà però sono sicuro che rimarremo insieme fino al 2024 Le emozioni sono tante perché è un evento storico avere un atleta visauro alle Olimpiadi ripeto, nel 1924 Gianni Patrignani nel 1960 Angelo Romani quindi siamo arrivati al 2021 è veramente emozionante quindi soprattutto c'è anche la speranza di poter festeggiare i 100 anni della Visauro alle Olimpiadi nel 2024 con le Olimpiadi di Parigi sempre con Simone che è atleta vicino di casa diciamo, nativo di Riccione però ha scelto la nostra società come riferimento e detto da lui come una grande famiglia a cui appoggiarsi è stato veramente un anno faticoso dal punto di vista sia amministrativo che tecnico tecnico abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini anziché nuotare in vasca da 50 abbiamo nuotato in vasca da 25 con orari diversificati, diminuiti con atleti che non gareggiavano per motivi Covid però a questo punto possiamo dire di averlo superato speriamo anche per il prossimo anno e stiamo concludendo la stagione in maniera molto positiva e con ottimi risultati Ed ora è il momento di parlare di eventi perché proseguono gli appuntamenti in programma all'Arena BCC di Fano prevista in cartellone per venerdì 9 agosto tra palco e cuore serata musicale di beneficenza in favore della mensa di San Paterniano l'evento verrà dedicato a Fabio Uguccioni ex assessore della città Sarà una serata dedicata a Fabio Uguccioni che è uno dei fondatori dell'Arena BCC noi nei nostri incontri serali visto che io sono il presidente della Proloco e Michele è il tesoriere in una riunione della Proloco Michele mi chiese se secondo me era possibile organizzare una serata visto anche il periodo che abbiamo passato in cui ci sono delle persone che si trovano in situazioni un pochino disagiate mi dice perché non organizziamo e partiamo con un evento una serata di beneficenza e quindi io chiaramente ho accettato di buon grado subito ho chiesto anche a Gino se era possibile sfruttare l'Arena BCC anche lui subito disponibile e quindi ci siamo subito attivati per organizzare la serata l'organizzatore ufficiale chiaramente è Michele è lui che ha avuto la gestione di tutta la serata e quindi niente abbiamo deciso di farlo poi è successo un evento che purtroppo c'è stata la scomparsa di Fabio e quindi il fatto di avere questa serata in beneficenza dove lui era impegnato in maniera importante dove lui sul sociale era uno degli organizzatori principali abbiamo subito deciso di dedicarlo a lui chiaramente tutto l'incasso verrà devoluto verrà devoluto alla mensa di San Paterniano e quindi ecco quello che noi abbiamo chiesto alle nostre associazioni associate è di aderire di aderire in massa ma noi lo chiediamo a tutti perché ecco per ripartire con un evento di beneficenza secondo me è la cosa più giusta da fare in questo momento non dobbiamo dimenticarci che anche chi canta chi suona chi insomma i gruppi in questo periodo sono stati fermi quindi ricominciare da poco ricominciare insomma con questo evento è gratuito per la raccolta fondi insomma comunque vuol dire metterci un po' di cuore e effettivamente bisogna premiarle questi gruppi che hanno diritto subito e si sono resi subito disponibili per organizzare un evento musicale dove verranno ricordate varie attività Fabio Guccioni soprattutto come uomo e come persona che è sempre stata attenta al terzo settore alle persone più fragili e quindi poi verranno raccolti i fondi ma soprattutto ripeto dire grazie a questi gruppi perché veramente hanno aderito e in un momento anche loro molto particolare in chiusura due notizie flash sportive perché la Vispesaro ha annunciato l'arrivo di due nuovi giocatori in casa bianco-rossa il primo è Davide Marcandella centrocampista offensivo per cui è stata avviata l'acquisizione a titolo definitivo dal Padova Calcio il neo bianco-rosso ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per la stagione 2023-2024 confermato anche l'arrivo dalla regina di Alessandro Farroni con un contratto di cessione annuale temporanea il portiere classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile del Perugia e questa era l'ultima notizia prima di passare al meteo andiamo a vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV infatti ecco qua questa sera vi faremo conoscere una cosa una celebrazione molto particolare si chiama il battesimo della Pezza Santa siamo andati direttamente al cantiere navale Gioacchini di Pesaro per raccontarvi che cosa è e in cosa consiste quindi non perdetevi questo appuntamento alle 21.15 e poi vi ricordiamo sempre di scaricare la nostra applicazione è gratuita la potrete trovare su Google Play o sugli App Store e potete grazie a questa applicazione seguire Rossini TV anche quando siete fuori casa e adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni io vi ringrazio per la vostra attenzione l'appuntamento torna domani con la nostra rassegna stampa buongiorno Rossini alle 7.20 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti